Vi do una dritta, dal 2014 al 2020 le materie più richieste sono quelle tecniche, quindi professioni come l'ingegneria, eccetera. Ma oggi, chi sceglie la filosofia, la letteratura, esattamente che cosa fa, che cosa vuole fare? Che cosa fa il filosofo nel 2016? Che domande sono? Disoccupato purtroppo. Che filosofo è una persona che ha poi un'apertura mentale molto ampia. L'anno scorso, credo, c'era un'offerta dall'IBM, società informatica, che cercava filosofi. Oh, insegna, c'è la propria passione. Le materie umanistiche, come hai detto, fondamentalmente sono messe un pochino da parte, però la cultura, sinceramente, penso che sia il caposaldo di una nazione, no? Quindi io ti chiedo quali sono le tue speranze del futuro? Le mie speranze sono quelle di insegnare all'università, di proseguire la carriera accademica, dico la verità, all'estero. Sostanzialmente l'unica speranza che ho è quella di andare all'estero. Lo avete sentito? Che siano medici, filosofi, geni della cibernetica. Le prospettive portano fuori dalla nostra regione. Lo confermano i dati. Il 40% dei ragazzi lascia la Sicilia per continuare gli studi in altre regioni d'Europa. E devo dire che è un tasso che ogni anno cresce sempre più. Di sicuro gli studenti vanno dove vengono assistiti meglio. Speranza di rimanere in Sicilia? Molto basse. Poca. La probabilità è anche questa, ma volendo se c'è speranza è anche qui. No, Milano. Cioè, punto a Milano. Poi ovviamente a seconda della possibilità si vedrà. E allora come fare per non scappare dalla Sicilia? Noi abbiamo bisogno che i giovani da questo punto di vista, davvero, che tutte le nostre ragazze e i nostri ragazzi possano scegliere la mobilità internazionale e non essere condannati invece ad andare fuori. E per fare questo bisogna invertire il paradigma del lavoro che si deve cercare, ma del lavoro che si deve creare. Ma Orienta Sicilia presenta tante opportunità. Oltre agli stand di Università Siciliana ed Europea è la Scuola di Mediazione Linguistica e ancora gli stand delle aziende professionali come Avon Cosmetics e anche lo Stato Maggiore della Difesa che offre informazioni sui concorsi per esercito, marini, aeronautiche e carabinieri, lo stand forse più gettonato. Fate i concorsi per i carabinieri, non demordete in caso alle prime volte non vadano bene perché comunque con la tenace impegno si può vincere, si può diventare un carabiniere. Ecco, la situazione è questa. I trucchi e i consigli li avete registrati, perciò non ci resta che augurarvi un in bocca al lupo, che siate i prossimi filosofi o i prossimi astronauti.